E' proprio vero che nel calcio nulla è scontato e deciso fino a quando l'arbitro non fischia la fine. Ne sa qualcosa il Chieti che avanti 3-0 sul Como dopo mezz'ora di gioco si fa raggiungere dalle lariane. 3-3 quindi il risultato di una partita vibrante ed emozionante che si sblocca al decimo quando sulle filtranti di Vicchiarello la difesa del Como non è impeccabile, Marinelli ringrazia ed in diagonale batte Ventura. 2 minuti più tardi il Chieti potrebbe andare sulle 2-0 con Green che parte in contropiede verso la porta Comasca ma arrivati in zona tiro non inquadra il bersaglio. Il raddoppio è solo rimandato ed arriva al quindicesimo con una gran botta di Dibari e il suo tiro tocca contro la traversa poi si insacca. Il Como è frastornato ma prova a reagire ed alle 24esimo potrebbe accorciare le distanze con Gritti che riceve palla dalle retrovie e supera Vicenzi con un palonetto ma la palla esce di un soffio. Alla mezz'ora il Chieti si porta sulle 3-0 con Green che di testa batte Ventura in ritardo nell'uscita. La partita sembra ormai chiusa, le abruzzesi potrebbero addirittura segnare il quarto gol sette minuti dopo quando Tona mette in movimento Marinelli che si vede parare il tiro dal portiere. Il Como ha una reazione ed alle 43esimo va in gol con Fusetti che di testa indirizza in porta una punizione battuta da Previtali. La rete galvanizza le padroni di casa che iniziano la ripresa all'attacco. Dopo appena un minuto Brambilla entra in possesso del pallone e punta la porta ma il suo tiro si spegna lato. Il Como spinge ed alle 52esimo rientra prepotentemente in partita con un gol di testa di Cambiaghi che sfrutta l'indecisione di Vicenzi nell'uscita. Le lariane alzano il baricentro ed il Chieti agisce di rimessa sfiorando il 4-2 al 57esimo con Di Marco che entra in aria e poi mette al centro. Il pallone deviato per poco non entra in porta. È un difensore a salvare sulla linea. La partita non ha un attimo di tregua ed alle 61esimo arriva il 3-3. Gritti è imprendibile sul versante sinistro. Entrati in aria serve un assist invitante a Cambiaghi che gira alle spalle del portiere il pallone del pareggio. A questo punto la gara è aperta a qualsiasi risultato. A 72esimo in Eruber manca di testa il gol del nuovo vantaggio. Le due compagini provano a superarsi fino alla fine ma il risultato non cambia più. Como e Chieti pareggiano 3-3.